Non tutti si rendano conto che la TASI è un'imposta, è una nuova imposta da pagare. Rendetemi conto che per esempio ci sono una serie di, adesso non so se sia per fare le simulazioni siamo in grado di dare, per esempio tutte quelle persone che sono esentate da 7.30 per esempio, no? Avendo anche la prima carta, no? Che però la TASI, perché noi abbiamo sotto controllo quelli che vengono da noi fra 7.30 e 7.40 e gli diciamo guardi che devi pagare la TASI, guarda che tutti gli altri, che sono tanti, tutti gli altri noi abbiamo l'impressione che questa cosa qua non sia ancora giunta. Pensate solo ai frontalieri che non fanno la dichiarazione dell'Italia, per non pensare ai pensionati col minimo che magari gli viene in mente di passare a chiedere, ma tutta quella fascia lì dei frontalieri che normalmente non si confronta con fisco in Italia, lo saprà, questi qua non sono pochi. Like madre, se ci vuoi!